Un contributo alla crescita degli studenti e questo è il senso di una donazione da parte dell'Avienda Sistema a favore di Enaip Mantua. Un modo tangibile per ricordare Simona Tirelli e Luca Negri, fondatori dell'Avienda Mantovana Sistema e scomparsi prematuramente negli ultimi mesi. Sistema ha scelto di premiare Enaip Mantua, una scuola del territorio, con una donazione. Loro ci credevano tanto in questo, come credevano anche tanto nella formazione. Quindi a noi in primis, come diciamo genitori, hanno sempre detto di studiare, di formarci, di prepararci e seguire però quelli che sono poi i nostri sogni. Questa donazione potrà aiutare altri ragazzi anche a realizzare poi i loro sogni. L'obiettivo della donazione è favorire i giovani per diffondere cultura nel territorio e garantire un'educazione scolastica che possa sempre più adattarsi alle necessità richieste nel mondo del lavoro. Ringraziamo innanzitutto l'Avienda Sistema per questa donazione pensata per la nostra scuola, per i nostri studenti. Ringraziamo anche Api Mantua, l'associazione che ha creato questa connessione appunto tra il mondo della scuola e l'azienda e che in generale crea connessioni positive appunto tra realtà formative come la nostra e realtà aziendali del territorio. Enaip Mantua fin dal secondo anno di studio inserisce i suoi studenti in azienda tramite tirocini curricolari e garantisce loro anche periodi lavorativi all'estero. Sistema ha riconosciuto l'impegno di Enaip Mantua. La mamma e il papà credevano tanto nelle persone e il sistema prima di tutto è una famiglia, chi passa sicuramente trova un ambiente familiare, un clima positivo e si vede proprio che loro ci credevano tanto in questo.